Non so niente, sono celloni sulle rocci, sono in montagna, siccome ha fatto la 10. Il ha discesa, il ha ben discesa. Il ha bisogno di qualcosa, no? Il ha bisogno di qualcosa di più, capis? Non, non, non. Guarda qui, non d'altro. Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.